Il 18 marzo è il giorno in cui tutto il paese si stringe attorno al ricordo delle persone morte a causa della pandemia 650 in provincia di Arezzo. Donne e uomini che mai dimenticheremo preservando la memoria collettiva di quanto successo, storie tutte diverse ed importanti di persone che hanno combattuto la malattia e per le quali noi, scrive l'azienda sanitaria, come sistema sanitario, ci siamo battuti con ogni mezzo. Il nostro pensiero corre sul filo del ricordo delle drammatiche giornate in cui le RSA, luoghi che da sempre custodiscono la nostra memoria incarnata negli anziani ospiti, si sono trasformate in case della sofferenza con interminabili solitudini e perdite dolorose che ci hanno segnato nel profondo. Al di là dei numeri delle statistiche però ci sono le persone, le famiglie, le comunità. Nei nostri occhi abbiamo ancora l'immagine dello striscione che nelle soleggiate giornate di maggio sventolava fuori dall'ospedale San Donato. Un telo bianco con la scritta Nonna Rosina, non mollare, ti amo. Messaggio semplice e forte di una nipote alla nonna che purtroppo non ce l'ha fatta. Oggi abbiamo imparato a convivere con il virus, a curarci, a vaccinarci da esso, ma non potremmo mai abituarci alla sua violenza e al dolore che è in grado di provocare.